Eh, signora Lina, vanno a Treviso e non stanno emigrando. Primo, vieni qua che ti do un abbraccio. Grazie padre. Ciao primo, ciao. Mamma. Papà. Cosa ti è venuto in testa? Che bisogno c'era di industriarsi per fare un concorso pubblico? E cosa vuol dire che vai a fare il postin? Ma vuoi andare via di qua? Perché? Ciao papà. Vai, vai Mona, vai. Stai attento alla città e al boccia soprattutto. Demo. Il più contento di tutti, Isetti Berio. Ora che il gaffinio le scuole medie, abbiamo iscritto a ragioneria. Ecco, bravo. Fidate del can, mai di un cristiano. Eh, testolina. Studia boccia, eh. Studia. Berio! Dai, chite, ciao. 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 Ciao.